17.550, questo è il numero dei nuovi casi in tutta Italia e di questi in Sicilia 926. Questi dati dell'incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente, secondo il bollettino dell'8 settembre sui casi Covid-19, scaricabile dal sito tematico dedicato del Ministero della Salute. In provincia invece si registrano 52 nuovi casi. La Spenissena, attraverso l'ultimo aggiornamento relativo alle 24 ore precedenti, parla di pazienti positivi al SARS-CoV-2 tutti in isolamento domiciliare. E per l'esattezza 14 di Caltanissetta, 11 di Gela, 5 di San Cataldo, 4 di Niscemi, 4 di Riesi, 3 di Mussomeli, 2 di Butera, 2 di Mazzarino, 2 di Serra di Falco, 2 di Sommatino, 1 di Delia, 1 di Milena, 1 di Santa Caterina Villarmosa, 3 i pazienti di messi della degenza ordinaria, 2 di Gela e 1 di Niscemi. 221 invece guariti da Covid-19 e così suddivisi, 79 pazienti di Gela, 31 di Caltanissetta, 25 di Niscemi, 16 di San Cataldo, 14 di Delia, 10 di Mussomeli, 9 di Butera, 7 di Sommatino, 5 di Vallelunga Pratameno, 4 di Riesi, 4 di Campofranco, 4 di Sutera, 3 di Milena, 3 di Serra di Falco, 2 di Santa Caterina Villarmosa, 2 di Villalba, 1 di Buonpensiere, 1 di Marianopoli e 1 di Mazzarino.